Musica 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 Grazie. 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 Signori, la festa è finita, e Gesù mi manda la grande pensione, perché le donne ce l'hanno molto profonda. Sotto il cazzo. La cosci. Ma non è il procese, gli uomini ce l'hanno molto profonda. Le donne ce l'hanno molto profonda. No. Oh quanto è bello andare da Candido, da fare mia mia, che chicche che c'è sta. Che grande un tela si serve da Candido, con la risparmata tu puoi comprare. Che allegria, che simpatia, di zin 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 da. Che gran servizio, che chiccheria, solo da Candido puoi trovare. Vieni fu dalla mattina, questa palina mia meridia è personale, assai cortese, e ti accoglie con simpatia. Che lavoro di qualità artigianale sappia fare, e che mobile eccezionale. Non ne trovi più uguale, questa palina mia meridia vale, non ce n'è un altro uguale. Se l'età è puntualità, solo qui tu puoi trovare. Che dirà qualche magia, cambia tutto in compagnia. Sei un famiglio, solo da Candido, con gran professionalità. Ritorna in compagnia, in questa tua regna meridia. Soltanto qui da Candido, c'è gran sparmaccio, con gran qualità. Venite con le leggende, da Candido c'è cortesia. Lui a San Antonio della Razzari, a Campobasso, c'è l'età Cantido. Vieni fu dalla Candido, vieni fu da Candido. Olè! Olè! Grazie, grazie, grazie! Grazie! Grazie, grazie! Ciao!